Turismo, ferragosto da tutto esaurito nonostante l'incubo mucillagini Cocaina sotto la sabbia, spaccio in costume prima della notte delle candele Rischio croli all'interno del San Benedetto, sopralluoghi prima del vio al recupero Gaia Giovannini e la dedica dei gradi, anche la Megabox si tinge del loro olimpico del volley Calcio Vispesaro, già eliminata dalla Coppa Italia, Albenelli passa l'Arezzo Una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV Riparte una nuova settimana in compagnia dell'informazione serale di Rossini News Il telegiornale del Canale 80 che in questa edizione di lunedì 12 agosto apriamo parlando di turismo e di questa settimana che conduce al ferragosto che nel pesarese si annuncia sold out sia per quanto riguarda l'entroterra che la costa nonostante quest'ultima continui a convivere con l'incubo mucillagini La settimana di ferragosto non tradisce le aspettative delle strutture alberghiere che anche quest'anno fanno il pianone e vanno in sold out Si tratta del periodo per eccellenza della stagione estiva che tutti i lavoratori del settore turistico attendono per attirare un bilancio più o meno positivo della stagione in corso giorni che nella pesarese saranno pieni di turisti in tutta la provincia dalla costa all'entroterra anche grazie ai tanti eventi di Pesaro 2024 Sarebbe difficile immaginare un ferragosto senza il pieno nelle strutture ricettive Abbiamo avuto un pessimo inizio d'estate a causa di un meteo che ha rovinato praticamente tutti i weekend per cui le strutture ricettive in tutta la provincia hanno lavorato poco C'è stata anche nella vicina regione una lamentela forte anche da parte dell'associazione degli agriturismi con una perdita, loro dicono, quasi del 30% delle presenze nei mesi di giugno e di luglio E' la stessa cosa anche se con numeri meno impattanti anche nella nostra provincia Adesso le strutture sono al pieno ed è normale diciamo che sia così E' al pieno anche perché abbiamo l'offerta balneare che ben si lega con l'offerta culturale di Pesaro capitale italiana della cultura per quest'anno e con i tanti eventi e le tante iniziative che si svolgono in tutto il territorio grazie a questa iniziativa dei comuni che per una settimana all'anno diventano anch'essi capitale italiana della cultura Il progetto di Pesaro 2024 ovvero capitale al quadrato è servito al territorio soprattutto per una promozione dei comuni dell'entroterra che faranno da spalla e da sponda al turismo costiero in un'estate dove il mare ha più volte visto un'intensa presenza di mucillagini Indubbiamente preoccupazione per lo stato del mare delle mucillagini che è un fatto naturale purtroppo dovuto a queste altissime temperature come hanno dichiarato più volte gli esperti di biologia marina quindi nessun problema per la salute salvo ovviamente il dispiacere di vedere ogni tanto il mare non perfettamente pulito però gli alberghi sono pieni e abbiamo un'entroterra straordinario che riesce a creare un'alternativa al turismo balneare E ci si domanda quando terminerà questo fenomeno delle mucillagini che sta imperversando in quest'estate e che ha compromesso anche l'ultimo weekend in spiaggia così come la giornata odierna come mostrano le tante immagini inviateci da voi telespettatori dalla spiaggia fino anche a diversi chilometri al largo del litorale Non sembrano esserci al momento le condizioni meteorologiche tali da creare mareggiate risolutive ad un fenomeno che sta riguardando metà del mare Adriatico anzi in tutte le marche resta il bollino rosso per giorni di caldo persistente oltre 36 gradi che si protrarranno almeno fino al giorno di Ferragosto Pomeriggio e serata da prensione ieri lungo la costa di Pesaro quando si è messa in moto una macchina operativa di ricerche con elicottero dei Vigili del Fuoco e moto vedetta della Capitaneria di Porto a caccia di un turista tedesco scomparso gli indumenti dell'uomo in questione a fianco ai documenti ritrovati nell'aranile di Bagnitina hanno infatti fatto scattare il piano di attuazione e di ricerca a persone scomparse via terra, via acqua e via cielo lungo il lungomare di Levante e Ponente di Pesaro solo nella tarda serata si è appreso che il turista tedesco in questione stava bene aveva semplicemente lasciato la spiaggia dimenticandosi sulla sabbia documenti e effetti personali è recluso da quattro giorni nelle carcere di Villa Fastigi il 25enne di origine marocchina accusato di stupro nei confronti di una quattordicenne l'episodio è avvenuto a Civitanova Marche nei giorni scorsi ed è stato denunciato dalla minore lo scorso giovedì l'uomo è stato arrestato dopo le accuse della ragazza e le immagini di videosorveglianza che l'hanno immortalato a Civitanova in sua compagnia oggi si è tenuta l'udienza di convalida del fermo in cui l'uomo ha negato ogni accusa e la difesa ha chiesto un supplemento d'indagine spaccio di droga anche tra gli ombrelloni e quanto appurato da agenti di polizia fuori servizio durante questo weekend a Pesaro la droga nascosta sotto la sabbia lo spaccio fra gli ombrelloni a due passi da ignari bagnanti e quanto appurato nel tardo pomeriggio di sabato a poche ore dall'inizio della festa candele sotto le stelle da due investigatori della squadra mobile di Pesaro liberi dal servizio e al mare con i propri familiari poliziotti che nell'occasione avevano notato movimenti sospetti ad alcuni ombrelloni di distanza con due giovani intenti a scavare e frugare nel terreno sabbioso al ritmo di frequenti telefonate al fine di verificare quanto ipotizzato sul posto sono arrivati altri agenti della squadra mobile intervenuti proprio mentre uno dei due sospetti uscito dalla spiaggia si stava incontrando con un noto consumatore di droga del posto bloccati entrambi uno dei due sospetti risultato un ventenne albanese è stato perquisito e trovato in possesso di una dose di cocaina che stava per cedere all'acquirente contestualmente gli altri poliziotti ancora in costume hanno bloccato il secondo albanese di 30 anni che era rimasto sotto l'ombrellone è stato così recuperato un involucro con diverse dosi da un grammo di cocaina assieme ad un altro contenente 5 grammi i due albanesi sono stati pertanto arrestati nella flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti e questa mattina sono stati condotti innanzi al giudice del tribunale di Pesaro per la celebrazione del rito direttissimo il giudice dopo aver convalidato l'arresto ha emesso nei confronti dei due la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Pesaro Urbino e al di là dell'episodio di cronaca che vi abbiamo appena citato quella di sabato è stata un'altra edizione di Candele sotto le stelle che non ha tradito le attese con tantissima partecipazione di pesaresi e di turisti vi mostreremo tutto nello speciale che andrà in onda mercoledì 14 agosto alle 21.20 ma del quale vi offriamo ora qualche anticipazione finalmente ci siamo è arrivata la notte più attesa dell'anno la notte più attesa dell'estate 10 di agosto la notte delle stelle cadenti la notte di San Lorenzo ma soprattutto per noi qui a Pesaro Candele sotto le stelle decima edizione 10 chilometri di litorale da Pesaro fino a Gabic Monte passando per la nostra bellissima riviera del San Bartolo e Gradara illuminati da tantissime candele che renderanno davvero questa notte magica poche regole macchiare ballare divertirsi mangiare spiaggia ma soprattutto vestirsi di bianco è attesissima in quanto decima in quanto in un anno speciale in quanto anche diciamo in un momento di festa particolare per la città i giorni del Signore Parafestival il giorno di una festa che è attesissima ogni anno e che naturalmente quest'anno assume un sapore ancora più ancora più forte non a caso abbiamo non solo confermato la scelta di lavorare su questa bellissima manifestazione assieme a Gradara a Gabice per dare un senso di riviera unito e compiuto in un movimento turistico straordinario ma anche soprattutto di fare festa di fare festa come nasce questa manifestazione mettendo insieme i pesaresi e gli abitanti del nostro territorio e i turisti che trovano un'atmosfera magica e autentica di segre della semplicità delle candele delle luci in acqua delle stelle cadenti e anche naturalmente della cosa pittoresca del vestirsi tutti in bianco per dare questo tocco quasi usciti da un quadro fondamentalmente quest'anno è un anno particolare perché Pesaro 2024 capitale italiana della cultura 10 agosto e 10 anni dall'evento quindi abbiamo molti 10 in questo evento oltretutto abbiamo anche un 10 che sono i 10 chilometri di spiaggia pieni di candele e oltre mille candele che compongono la scritta Pesaro 2024 con il logo la serata fortunatamente è bellissima il vento si è abbassato quindi le candele rimarranno accese fino a tarda serata le candele ormai sono così tante che non le cantiamo più però sappiamo che sono 20 quintali di candele quindi sono tantissime che compongono tutto questo evento oltre le candele che sono all'interno dei kit che diamo ai bagnini proprio per la serata quando andiamo a consegnare il materiale l'evento oltretutto coinvolge persone esterne quindi tutti i volontari abbiamo i volontari della Proloco i volontari di Pesaro 2024 e i volontari della protezione civile che quest'anno sono circa 50 persone innanzitutto è un'iniziativa popolare dove le persone si ritrovano hanno il piacere di stare insieme molto spesso lungo la spiaggia ma nei tanti locali che abbiamo sulla costa è un momento io definito romantico perché riuscire a stare con gli amici o cenare con la propria compagna o con la propria moglie o comunque quelle persone care in riva al mare con le luci di candela è sicuramente una cosa che non si fa tutti i giorni è vero che sia il comune insieme alle tante realtà che sono coinvolte faccio ad esempio i volontari della prologue di candelare la protezione civile la polizia locale tutte le forze dell'ordine che in qualche modo garantiscono il giusto andamento di questa bella iniziativa e tutte queste persone però lavorano per far sì che le persone siano tranquille in una appunto serata romantica in riva al mare è una cosa che secondo me è apprezzata lo vedo molto sia dei cittadini pesaresi che aspettano ormai questa serata si vestono di bianco perché approfittano appunto per passare una serata diversa dalle altre ma anche i turisti che magari a volte non sanno neppure di questa iniziativa e si ritrovano una pesara diversa una pesara illuminata a lume di candela è una pesara appunto che vuole sempre di più essere protagonista a livello nazionale ma anche a livello internazionale per quanto riguarda l'accoglienza turistica e in più abbiamo scelto di avere con noi l'orchestra Casa Dei un altro anniversario molto importante 70 anni di Romagna Mia quasi un inno popolare del nostro paese chiaramente molto della nostra riviera è riconosciuto a Sanremo addirittura per i 70 anni di questa canzone e quindi avere l'orchestra Casa Dei già altre volte al nostro fianco e anche il senso un po' di questo piazzale di questo luogo che in questi anni si è molto recuperato rilanciato al ballo al divertimento all'aggregazione e ancora qui una volta all'incontro tra i turisti e i cittadini perché è la cosa a cui teniamo maggiormente e la notte delle candele è stata preceduta nella mattinata di sabato 10 agosto da uno sguardo privilegiato verso le stelle quello dell'astrofisica di fama mondiale Marica Branchesi che è stata ospite della Casa delle Tecnologie Emergenti di Pesaro in una curiosa fusione col mondo dell'arte il 10 agosto che celebra la notte di San Lorenzo a Pesaro è cominciato la mattina con l'ipareggiabile sguardo sulle stelle offerto dalla prospettiva dell'astrofisica Marica Branchesi che è stata ospite dell'ottavo incontro pubblico della Casa delle Tecnologie Emergenti a Palazzo Gradari la Branchesi ha tenuto una conferenza sulle sue esperienze e sulle scoperte scientifiche messe in relazione con un percorso condiviso tra creatività e tecnologie emergenti percorso che per l'occasione si è unito all'arte con la mostra di Gioros ospitata nelle sale di Palazzo Gradari la cosa per noi veramente interessante oggi è di mettere assieme nei vari casi della CTE CTE Square cultura, turismo ed engagement una parte che grazie anche alla capitale della cultura che abbiamo l'onore di avere qui a Pesaro in questo 2024 mette assieme l'aspetto della cultura con quello delle tecnologie emergenti e avere la professoressa Branchesi qui oggi è un modo eccellente per parlare di scienza di tecnologia assieme poi anche alla cultura e all'arte la professoressa ha avuto tantissimi riconoscimenti premi e quindi una grande opportunità per la nostra città e siamo ben lieti di poterla ascoltare e quindi ci saranno parliamo nel mondo delle stelle dei pianeti quindi è molto bello anche il fatto che viene collegato con la tecnologia e la digitalizzazione quando noi esploriamo l'universo troviamo delle immagini meravigliose sono un po' si prova un po' quelle che sono le emozioni che si provano davanti a un quadro e il lavoro di scienziato è un lavoro in cui la creatività è importante capire come osservare l'universo capire le immagini che ci arrivano e secondo me c'è intelletto e creatività dall'unione tra arte e scienza nasce proprio quella spinta verso lo scoprire e quella spinta verso anche nuove tecnologie che ci permettono di farlo la mostra intanto c'è un accenno di una come dire di una tonsfera stellare anche qui a Palazzo Gradari nel senso che ho comunque allestito una sorta di mini mostra con delle opere che hanno una sorta di gusto così legato anche all'universo alle galassie e sicuramente con Maniche Branchese è nata una sorta di congiunzione astrale nel senso che ho sempre in qualche modo vissuto l'universo come uno spazio che offre degli spettacoli della natura come d'altronde lo sono non so i dipinti dei macchiaioli dunque lo spettacolo della natura avviene anche attraverso appunto il telescopio che ci mostra delle immagini sorprendenti in questo senso ho cercato di carpirle e inserirle nei miei dipinti io sono stata molto fortunata nel senso che ho partecipato a delle scoperte molto importanti negli ultimi anni in particolare all'astronomia delle onde gravitazionali che è un'astronomia nuova è un po' come quando Galileo ha puntato il cannocchiale per la prima volta nell'universo e ci permette di vedere quello che prima era invisibile attraverso la luce nel 2017 ho partecipato a questa scoperta bellissima della fusione di due stelle di neutroni che si sono fuse insieme hanno emesso l'onda gravitazionale e tutti i colori della luce e da lì abbiamo fatto tantissime scoperte tra cui come si formano gli elementi pesanti nell'universo e tra questi anche l'oro e dalla stima della luminosità di questo oggetto e da come evolve il colore abbiamo scoperto che in quella fusione si sono formate in peso dalle 10 alle 100 terre di oro questo oro va nel mezzo interstellare e da lì si riformano poi le stelle e i pianeti quindi l'oro che abbiamo sulla terra è legato a queste fusioni ed ora torniamo ad occuparci dell'ex complesso psichiatrico San Benedetto che è stato oggetto di sopralluogo da parte del sindaco di Pesaro Andrea Biancani dell'assessore Riccardo Pozzi e degli architetti del comune Maurizio Severini e Stefano Amadio per verificare lo stato di parte del complesso su cui l'amministrazione interverrà con 15 milioni di euro finanziati dal Pinqua su 5700 metri quadrati spalmati su quattro piani che affacciano sul corso 11 settembre allungandosi fino a via Belvedere per creare 38 appartamenti dell'edilizia residenziale pubblica e social housing l'edificio è un punto di non ritorno di degrado secondo Biancani che ha ricordato come il comune farà la sua parte intervenendo da febbraio 2025 nell'area di cui è diventata proprietaria ma la regione Marche dovrà fare lo stesso e in tempi celeri altrimenti recuperare l'ex manicomio sarà davvero difficile attualmente infatti ci sono diversi tetti crollati solai a rischio collasso per le infiltrazioni d'acqua e che se non sistemati cederanno a breve se la regione dunque non interviene sull'area di competenza difficilmente il comune dice Biancani potrà ottenere l'agibilità per i suoi spazi anche se riqualificati e all'alba di questa mattina Fano ha iniziato a vivere una giornata di intensa devozione celebrando la ricorrenza dei 40 anni della visita in città di Papa Woitila che ricorre rispetto alla data del 12 agosto 1984 alle 6 e mezza di mattina sul lungomare di Sassoni in prossimità dell'ex anfiteatro Rastat sono iniziate le celebrazioni con la Santa Messa che ha visto la presenza di Monsignor Andrea Andreozzi e dell'arcivescovo emerito Monsignor Giovanni Tonucci una celebrazione che ha unito la memoria con il presente in un momento di raccoglimento di più di 500 fanesi Ed ora lo sport l'orgoglio nazionale per l'Italia del volley femminile che ieri si è laurata per la prima volta campione olimpica si amplifica a Vallefoglia dove a far parte della spedizione azzurra è stata parte integrante anche la schiacciatrice Gaia Giovannini porta colori delle tigre bianco-verdi nella spedizione a Cinque Cerchi Gaia era una delle due convocate della Megabox dal CT Velasco assieme ad Alice De Gradi che però ha subito la rettura del legamento crociato del ginocchio poco prima della partenza per Parigi al momento della vittoria la dedica di Silla e compagne alla sfortunata compagna mostrando la sua maglia azzurra numero due dalla pallavolo al calcio ieri primo impegno ufficiale dell'anno per la vispesero chiamata Albenelli nel match di Coppa Italia con Larezzo vediamo come è andata A 15 giorni dal debutto di campionato la vispesero cade nell'esordio ufficiale di Coppa Italia con Larezzo pesaresi eliminati dal torneo al cospetto di toscani solidi e consolidati sull'ossatura della passata stagione rispetto ad una visse rinnovata e in fase d'assemblaggio Albenelli finisce 3 a 1 per gli ospiti eppure era stata la visse a passare in vantaggio dopo nemmeno due minuti di partita con Nicastro bravo a capitalizzare un'azione nata sugli sviluppi di calcio di punizione l'Arezzo però c'è e trova il pari con Guccione che al 25esimo batte Vukotic Arezzo che poi ribalta la situazione al tramonto del primo tempo col più classico gol dell'ex Gucci che fa 2 a 1 su colpo di testa le velità di rimonta vissine vengono avvilite nella ripresa dell'espulsione per doppia munizione di Neri ma la vista resta incollata al match prima di capitolare sul 3 a 1 finale di Gaddini ci sono state molte cose positive molte cose alcune cose negative al di là del risultato che ci dispiace ci tenevamo a ottenere una vittoria per passare il turno per prepararci ancora meglio alla partita poi prima di campionato insomma così non è stato risettiamo analizziamo quello che potremmo fare meglio perché ci sono state cose che non abbiamo fatto molto bene soprattutto quella di abbassarsi un po' troppo nella prima parte della partita ma le partite serie C vanno così vanno affolate magari nel secondo tempo se non rimanevamo in 10 per 30 minuti potevamo uscire anche perché poi ho visto che in 11 contro 10 abbiamo tenuto bene il campo e addirittura quasi abbiamo giocato più il pallone e giocato anche meglio e creato la traversa con un cannavò e subito poco negli ultimi minuti poi ci siamo buttati avanti per provarla a pareggiare è venuto il gol del 3 a 1 in contropiede insomma però mi mirode perché se rimanevamo in 11 contro 11 poteva essere l'ultima mezz'ora insomma una partita dove si poteva benissimo rimediare del gol di svantaggio non è che era finita la gara è l'11 d'agosto ancora c'è da lavorare tanto ancora c'è da da sistemare tante cose ma come è normale che sia loro giocano insieme più o meno la stessa squadra dell'anno scorso quindi sono molto molto più avvantaggiati parlando anche con gli altri ragazzi appunto di loro lo ammettono anche loro questa cosa che è normale che sono avvantaggiati quindi noi penso che 3-4 l'anno scorso erano in campo ma neanche forse e quindi è molto molto difficile alla prima partita ecco alla prima vera partita fare meglio di come abbiamo fatto che secondo me non è andata neanche così male ecco a parte il risultato ovviamente però fino all'ultimo nonostante anche l'inferiorità numerica siamo stati in partita con Cannavoca preso la traversa con altre occasioni quindi comunque il nostro credo che l'abbiamo fatto poi comunque dispiace ovviamente per come è andata alla fine si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo alcuni appuntamenti a cominciare da quello che arriva subito dopo il TG alle 20 il nostro magazine La Natura della Cultura che in tutto questo 2024 vi sta tenendo compagnia con i tanti appuntamenti di Pesaro Capitale Italiana della Cultura l'appuntamento è alle 20 così come alle 8 e alle 13 del lunedì del mercoledì e del venerdì con il riassunto dell'intera settimana sabato alle 12 alle 19 e domenica alle 15 alle 21 e poi spazio a CECAP Obiettivo Salute questa sera alle 21 e 20 programma condotto in collaborazione con Fisoradi Medical Center dal nostro Antonio Astuti e poi vi ricordo l'appuntamento con l'informazione del mattino quella di Buongiorno Rossini la segna stampa dei quotidiani locali che in occasione dei martedì 13 agosto sarà condotta in diretta dalle 7 eventi dal nostro Teobaldo Bianchini ed è tutto invece per questa edizione delle telegiornali Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi di serata